Benvenuti sul canale, oggi sono qua per annunciarvi che sto giocando Lords of the Fallen. Ho avuto l'occasione di avere il gioco in anteprima e lo sto provando da qualche ora. Oggi, venerdì 6 ottobre dalle 15, ci sarà una live su Twitch dedicata proprio a Lords of the Fallen. Quindi se volete vederlo con i vostri occhi dovete passare in live oggi dalle 15 in poi. Trovate ovviamente il link in descrizione e sappiate che io vi aspetto veramente in tanti live perché credo che questo sia un gioco comunque atteso da molti avanti dei Souls-like. E quindi voglio esplorarlo un po' insieme a voi, presentarvelo, farvelo vedere e farvi capire se è un gioco che può fare per voi oppure no. Un'altra cosa importante è che di questo gioco arriveranno tanti altri contenuti. Sicuramente la recensione a scadenza embargo, ci sono due embarghi, quello di domani e poi un embargo che arriverà un po' più in là, a ridosso della data d'uscita del gioco. Quindi arriverà sicuramente la recensione, ma non solo, arriveranno anche infatti delle guide per il gioco. Perché ovviamente io nel frattempo lo giocherò, lo spolperò per bene e cercherò quindi di portarvi delle guide che vi siano veramente utili. Perciò io sono veramente molto contento di avere questa opportunità e spero che, insomma, anche a voi faccia piacere avere qualcuno che riesce a parlarvi di questo gioco in anteprima e in maniera totalmente onesta come faccio sempre di solito. Io vi ringrazio per essere stati qua, questo doveva essere semplicemente un video di annuncio di quello che succederà con Loss of the Fallen da qua in avanti. Sappiate appunto che mi trovate in live su Twitch oggi venerdì 6 ottobre dalle 15. Vi ringrazio per aver visto il video e ovviamente ci vediamo in live oppure al prossimo video. Grazie a tutti.